bene 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 ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ho un dubbio su bitcoin e sto cercando di riflettere su questi grafici che vediamo oggi a tutto il giorno attenzione da ieri allora ho pensato detto vabbè facciamolo insieme alla community perché può essere una cosa estremamente importante anche da fare insieme a voi e andiamo a vedere quelle che sono le mie due ipotesi su bitcoin e il dubbio che mi è venuto in mente per quanto riguarda il mese di maggio ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e poi lasciatemi pollicione perché mi date una mano con questi video però 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 c'è da dire anche un'altra cosa allora in questo caso specifico mi sembra che i vostri commenti perché in questo video andremo anche a esporre due teorie il dubbio che ho in testa quindi se mi fate sapere cosa ne pensate voi e soprattutto mi rende qualche consiglio e ben accetto aiutiamo tutta la community aiutate anche voi ma ogni tanto ci sta sotto quei commenti aiutate è un obbligo legge eccoci allora al grafico intanto guardiamo quello che è la situazione ciclica di bitcoin è quello che potrebbe fare in questo mese ragazzi poi vi faccio vedere il secondo grafico è quello mensile per farvi capire dove sta il dubbio e dove il problema della situazione nella video che avevamo fatta inizio mese di maggio abbiamo parlato della possibilità che bitcoin potesse andare a fare una close del ciclo di maggio non fortissima e che ancora maggio poteva essere in pratica una mese estremamente complesso per quanto riguarda il bitcoin e soprattutto poteva fare esattamente questo abbiamo messo anche la finestrella il solito rettangolino per poi andare a chiudere l'annuale in questo modo in maniera un po brusca però ci sta ok diciamo diciamo così allora questa è la prima ipotesi ipotesi che è ancora valida ma negli ultimi giorni a caso di una serie di atteggiamenti di bitcoin un pochettino io ero diventato leggermente più rialzista magari poi insomma non tutti lo sanno sul canale però sul mio canale telegramma ragazzi che è gratuito lo trovate in descrizione del link perché per il mesetto sto condividendo delle mie operazioni già da ieri tutti sanno questa cosa perché io sono full long nuovamente e ho pubblicato tutte le operazioni lì ci sono le mie operazioni di trading di breve e medio e poi l'operazione hold di lungo che addirittura è diventata di nuovo full hold prima era l'ottanta per cento lo sono ritornato al cento per cento in pratica io queste operazioni hold le chiudo e le apro solo per tutelarmi dal rischio ve lo dico in maniera chiara quindi non vado a comprare più basso non mi interessa proprio nulla e di fare questo io per fare trading uso le operazioni di trading e non quelle hold mi interessa solo per proteggermi ma ragazzi non vi nascondo che un po a livello emotivo sono stato un po forte cioè stato forte ritornare full long però questo dicevano i miei trading sistemi i treni sistemi li seguo anche se al mio lato emotivo era sofferente però vediamo magari hanno ragione loro ogni tanto ci sta a questo servono d'altronde va bene allora da un punto di vista di trading di breve intanto ragazzi una piccola parentesi scusatemi perché ogni tanto mi esasperate qualcuno di voi non tutti per fortuna pochissimi su alcuni video ragazzi dividete le operazioni di trading da quelle di hold e investimento di lungo periodo quando io vi parlo di trading e come nel video su dogecoin che vi ho mostrato la scorsa settimana è un'operazione di trading questo significa ragazzi che dura qualche giorno massimo ok non di più tra l'altro in quel video vi spiego come uscire dall'operazione spiegato proprio questo vi ho detto mettete tutti i trailing stop è ovvio che poi quando doge è crollato io sono uscito con le strategie che vi ho detto in quel video ci sono proprio le strategie ve l'ho detto in quel video quindi poi non mi venite a dire ah è sceso ma è un'operazione di trading vi ho specificato la differenza non fate hold su una coin come doge ok non me la sentirei nemmeno io ve l'ho detto più e più volte tra le altre cose ho anche agganciato un trading system su doge è una prova però ragazzi la prima operazione ha già perso il 2 per cento per serie però perché perché se questa coin continuare questa volatilità quasi quasi se rientra e fa delle operazioni gli otte ve lo dico va bene ok però dividete trading da hold e quindi investimento da due tre mesi ci sono delle differenze enormi quando io vi parlo anche delle mie operazioni di bitcoin se vi dico le persone in hold e da qui a due tre mesi un anno eccetera ma le persone di trading per esempio quelle che in questo momento sono state inserite nel mio canale telegram che potete vedere gratuitamente ragazzi basta nel link in descrizione trovate per accedere e alcune sono training che potrebbero essere chiuse già oggi stesso ragazzi fra poco tempo ovviamente poi lo scrivo lì quando le chiudo va bene allora scusate il briefing ma ogni tanto è giusto anche spiegare un po di più queste cose altrimenti molti di voi magari non capiscono la differenza allora tornando alla video di oggi a bitcoin ragazzi allora se questa struttura questa fase così continua in anno superare i 59 questa ipotesi che chiameremo ipotesi 1 resta ancora valida io però negli ultimi giorni ho visto bitcoin fare un po il furbetto chiamiamolo così il furbetto che significa che ogni tanto il mercato faceva finta di scendere poi recuperava cioè un po impostava quelle che secondo me sono le cosiddette trappole per orsi ragazzi e sono esattamente queste zone qui ad esempio questo super candelone totalmente recuperato il giorno dopo e queste due fasi che sembrano macchinose sembra voler dire sto crollando siccome questo è un livello di resistenza estremamente importante ve l'ho spiegato 59 livello di resistenza molto importante per bitcoin abbiamo visto che il mercato al coin ancora è florido quindi non è che siamo in una fase di mercato cripto in difficoltà e bitcoin che in difficoltà è assurdo dirlo ma è così e terreno oggi ha toccato il target di cui abbiamo parlato 22 domeniche fa non ieri l'altro ieri e ragazzi 4 2 tac è arrivato perfettamente dove doveva arrivare adesso sta bitcoin recuperare la forza perché giusto così ok quindi in questo momento bitcoin ancora stenta un po troppo però con questi bassi che poi vengono sempre recuperati questi swing di bassistiche recupera un pochettino mi ha dato l'idea che stessero creando una trappola per orsi e quindi sono stato un po di manica larga per esempio la mia operazione di trading di breve l'ho lasciata aperta cosa che non faccio praticamente mai anche per tanto tanto tempo perché un po mi dà l'idea ragazzi che stiano cercando di far di dare l'impressione che il mercato scende poi boom se ne vanno quindi ok l'ipotesi 1 resta quella che vi ho fatto vedere se non si superano i 59 con conferma daily e lo si fa tra le altre cose anche abbastanza in fretta potrebbe avere questo tipo di atteggiamento però da qui interviene il mio dubbio ragazzi perché vi faccio vedere l'altro grafico bitcoin ha fatto una candela di maggio estremamente piccola in termini volatilità perché tra il minimo e il massimo la volatilità è proprio piccola ragazzi quindi non è sufficiente per un mercato come bitcoin siamo intorno all'11 per cento è veramente troppo poco solitamente almeno il 15 30 per cento lo fa in questo caso bitcoin deve aggiornare dovrebbe aggiornare o il minimo il massimo perciò se non arriva ad un livello di 61 barra 64 ora vi faccio vedere il rischio che va da giù è molto più pronunciato allora facciamo i conti questo più o meno dovrebbe essere la finestra di oscillazione di bitcoin se noi la consideriamo dal minimo di maggio ci rendiamo conto che 63 più o meno 64 dovrebbe essere il suo massimo per il mese il punto di arrivo accettabile per la volatilità anche se fa un mese estremamente poco volatile io direi che un 61 ci sta 61 64 ok allora è proprio questo il motivo che non mi ha spinto un po uscire con operazioni di breve perché mi dà l'idea che il mercato stia chiudendo una fase per poi accelerare nella seconda parte del mensile un po mi ha dato questa idea poi magari appunto posso sbagliarmi o un po il dubbio della situazione se dovessi seguire le mie analisi che avevo fatte inizia ma e se dovevo dire ok adesso un po si scende però l'atteggiamento della price action non mi ha dato un po il dubbio io volevo sapere la vostra opinione anche quindi scambiamola scrivetemela nei commenti secondo voi questi atteggiamenti sono un pochettino ok spingono poi magari nella seconda parte del mese tra un paio di giorni ad accelerare perché in realtà come vi fa a vedere questo grafico la possibilità che nel mese di maggio arrivi a 61 64 in quella zona è molto alta se non fa una cosa del genere invece e se sprofonda ma ora vediamo ragazzi facciamo una cosa vi indico anche i livelli sotto il quale non ci deve proprio andare il rischio che si vada addirittura a scendere in una finestra di price che è tra 50 e 49 circa è molto alto perciò è questo il problema grave secondo me di bitcoin in questa fase del motivo per il quale il mercato è così nervoso come lo vedete ogni volta che prova a salire viene sbattuto giù di volta che va giù riprova a salire secondo me questo dubbio questa indecisione ce l'ha il mercato e i prezzi dovranno prendere una strada come facciamo noi a capirlo intatto appunto vi ribadisco scrivetemi nei commenti cosa pensate voi quale secondo voi la strada più attendibile perché così ci confrontiamo da un punto di vista invece di price action quali sono i livelli sotto i quali bitcoin non deve proprio andare i 53 per quanto riguarda questa fase ma già sotto i 55 la questione diventa critica e non poco quindi questa zona qui in prima fase e poi la seconda assolutamente da non toccare secondo me se già arriva qui e qui sotto ci chiude è difficile che il mercato vada a fare nuovi massimi per maggio a quel punto dovrebbe proprio fare un truffone enorme ragazzi quindi diventa complicato se invece si mantiene sopra questi livelli e questa fascia che poi in realtà sta facendo in questo momento un pullback è la barra è la candela di oggi che un pochettino sporca che non è buono allora potrebbe poi accelerare nella seconda parte perché in questo caso dal punto di segnalisi ciclica ragazzi sta chiudendo un ciclo bisettimanale ne ho parlato in academy oggi nella mia community questo è più o meno un ciclo bisettimanale che potrebbe chiudere o ieri o oggi insomma è la stessa cosa quindi se da domani ricomincia a ritestare a martellare zona 59 la possibilità che ti possa portare tra 61 e 64 e alla per il mese di maggio prima della chiusura ciclica è molto alta allora questi sono i due scenari sono due scenari lo so completamente opposti come fare poi a gestirlo qui poi bisogna essere trader allora ragazzi io vi dico quello che farò ve lo scrivo sul canale telegramma ma badate bene veramente difficile questa situazione però ci proviamo vediamo cosa ne usciamo fuori che non abbiamo preso tutti i target anche su et h perché no magari vediamo se stiamo long fu lungo coi train system e facciamo bingo anche questa volta ma ma magari scongiuri faccio una cosa prendo il mio bitcoin d'oro che di solito porta fortuna e lo mettiamo qui nel video che ok questo è la struttura del video va bene ragazzi allora queste sono le due più cosa ne pensate anche voi e badate bene state molto attenti a questa fase anche perché se ritorna già domani a testare 59 qualcosa potrebbe essere il giorno buono ricordatevi come dico sempre spiegato nei miei corsi ragazzi che la forza di un mercato si vede da come recupera quando va giù quando va giù e recupera con forza allora il mercato dimostra di essere forte bitcoin però ok sta riposando ha fatto bene però deve un po reagire e rialzare la testa contro una dominance tra l'altro che lo sta schiacciando ragazzi e th sta facendo furore va bene c'erano tutti i motivi per questa cosa ma sta troppo a guardare bitcoin attenzione a non stuzzicare il can che dorme che ne pensate ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti